Ecco, la miniere è laggiù, in un canalone sotto quel picco. Non è ancora finita. Salvato suo marito dovremo pensare a Chato e a questi... a questi gentiluomini che ci seguono. Non ho più paura di niente. Ho imparato qualcosa da quando sto con lei. Ad essere coraggiosa. Ricordi che se tutto andrà bene, è meglio smetterla con le avventure e filare a casa. Maledetti uccelli da preda, ali di Satana. Perché ha sparato? Sono segno di morte. Un segno di morte vicino? Già, infatti la signora Martin ci ha parlato di sei o sette banditi morti. No, sono molti di più. Dove ha fatto i suoi studi ecclesiastici, reverendo? In seminario, California del Sud. E quando ha preso gli ordini? In un tempo molto lontano, signor Collins. Già, ma mi risulta che in un tempo molto vicino si trovava nel penitenziario di Monterey, per caso si tende. Stia calmo, reverendo. Il suo passato non mi interessa affatto. Ma si ricordi che con me è meglio non fare scherzi. Capito? Paolo! Paolo! Oh, mio Dio Reverendo Riley, può fare qualcosa? Posso solo pregare, signora Padre coraggio, signore